Dave, tesoro, sono io, Joyce. Io non so se riceverai mai questo messaggio, ma volevo essere sicura di lasciarti qualcosa se mai tornassi qui. Mio Dio, da dove comincio? Sono le due e mezza del mattino, di capodanno del 2079. Nell'ultimo anno dopo la guerra sono rimasta qui. Io, un paio di persone dello staff e un centinaio di ospiti. E i robot. Non pensavo che sarei stata contenta dei robot. Ce la siamo cavata. Mi hanno anche fatta manager. Riesce a crederci? Però dobbiamo andare via. Io e Pola domattina partiremo per Charles. Mi siete mancati tanto, tu e le ragazze. Davvero tanto. Prenditi cura di loro da parte mia, ok? Con amore. Per sempre.